Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, in particolare nei giorni scorsi a Vittoria, in orario e zona particolarmente trafficata, un uomo stava lavando la sua autovettura insieme alla sua famiglia quando, durante l'attesa della procedura di asciugatura dell'auto, è stato spinto improvvisamente alle spalle da un giovane ragazzo straniero, successivamente identificato in VD. Queste le iniziali di 28 anni che con tono minaccioso gli ha intimato di consegnargli dei soldi. La vittima, nonostante avesse tentato di mantenere una distanza di sicurezza per evitare eventuali contatti fisici, è stata comunque colpita con un primo pugno al volto che l'ha fatta cadere a terra stordita. L'aggressore, non ha esitato nel continuare nel suo intento, sferranno una serie di pugni e calci al volto e in altre parti del corpo per poi riuscire a impossessarsi del cellulare e portafogli e darsi alla fuga a piedi. Il tutto anche alla presenza della moglie del figlio del malcapitato, che sono rimasti impietriti in stato di shock. Immediatamente i carabinieri sono giunti sul posto e attivati dalla centrale operativa, prestando i primi soccorsi alla vittima e interessando anche il personale medico del 118 per le cure del caso, che, accertate le lesioni subite, ha deciso di trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, sempre di Vittoria. I militari, al fine anche di acquisire una descrizione del rapinatore, hanno visionato i filmati registrati dalle telecamere di videoserviglianza dell'autolavaggio e si sono messi alla ricerca del suo ladro. Durante tale attività hanno rinvenuto, a pochi metri dal luogo della rapina, il telefono cellulare della vittima di cui si era disfatto l'aggressore durante la fuga. Successivamente, sempre i militari, si sono legati al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria per verificare le condizioni di salute dell'uomo e durante la loro pertinenza nei locali è arrivato uno straniero ferito alla gamba da un'arma da taglio che, in attesa dei previsti accertamenti medici, è stato fatto accomodare su una barella accanto alla vittima, divisi solo da un pannello. I militari, prontamente, hanno notato la corrispondenza dello straniero, giunto poco prima con l'uomo visto nei filmati di videosorveglianza. Lo hanno riconosciuto sia nell'aspetto che nell'abbigliamento, come l'autore della rapina. Un'ulteriore conferma è anche arrivata dalla stessa vittima, che ha riconosciuto accanto a lui lo straniero come suo aggressore. Dall'insieme degli elementi acquisiti, sussistendo pertanto gravi indizi a carico di VD, i carabinieri hanno proceduto nei suoi confronti con un fermo d'indiziato di delitto per rapine e lesioni personali. Esperite le formalità del caso, il giovane ladro è stato tradotto nella casa circondariale di Ragusa per essere sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.